Achille e Laure il 28 giugno, Negrita 31 luglio, Luca Carboni 17 agosto, Roberto Vecchioni, Peppino Di Capri, Sergio Caputo, Francesco Baccini fino a Robby Facchinetti sono solo alcuni degli appuntamenti che animeranno l'estate di Francavilla al mare. Gli eventi sono stati presentati proprio in piazza sirena dalla SIDA con Antonio Luciani e dagli organizzatori. Ho parlato di gioco di squadra, voglio continuare a farlo perché la cosa più importante tra tutte le cose che abbiamo detto è che tutti gli eventi facciamo in modo che si svolgano nella più completa sicurezza. E per questo motivo io voglio ringraziare e vorrei anche un applauso da parte vostra il comando dei carabinieri, gli uomini della questura di Chieti, il delegato di spiaggia che c'è sempre vicino ed è attento a queste problematiche perché veramente solo c'è il comandante dei nostri vigili urbani messo sotto stress nel periodo estivo. Perché come sappiamo le risorse sono sempre di meno di quelle che occorrerebbero, però solo grazie all'aiuto veramente di tutti riusciamo anche a mantenere degli standard di sicurezza. A voi, a chi verrà a vederci, chiediamo la pazienza perché se si deve subire qualche rallentamento, qualche limitazione sappiate che per il vostro bene, perché Francavilla oltre che bella, oltre che culturalmente attiva, deve essere anche sicura. All'interno del programma estivo troverete una pagina che è una guida al corretto uso della raccolta differenziata. Ecco, l'appello che noi vi facciamo è aiutarci a mantenere la città pulita. Per quella parte di eventi che prevedono una platea numerata è prevista la vendita di biglietti. Per esempio, quello dedicato a Gerry Calà, che si terrà alla sirena, per il quale è possibile acquistare la prevendita del posto unico con la consumazione sul circuito ciao tickets.com, oppure a Palazzo Sirena, quindi qui alle nostre spalle, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, tranne il lunedì. Stessa cosa per il Blue Bar Summer Festival, che ha i biglietti disponibili e gli abbonamenti anche sul circuito online ciao ticket, ma anche presso il Palazzo Sirena, negli stessi orari, quindi 10 alle 13 e 17 alle 20, tranne il lunedì. E sul programma trovate anche i riferimenti telefonici per le informazioni. Analoga cosa per i Negrita, che hanno i biglietti anche disponibili sul circuito di Ticket One, oltre che su quello di ciao ticket. Per tutte le info, il sito e la pagina Facebook del Comune di Francavilla al Mare e gli uffici a Palazzo Sirena.